In arrivo per quanto riguarda l'Almarena, questo parquet stile NBA e tutta una serie di migliorie per quanto riguarda il palasport. Sì, allora, come ho detto prima, la cosa principale, la cosa più immediata è il nuovo palquet che sarà di colore chiaro, che sarà dello stesso tipo di legno che viene utilizzato nell'NBA ed è la prima miglioria che noi faremo al palazzetto dello sport. Sarà visibile, sarà tra virgolette presentato e utilizzato durante la partita casalinga della Virtus Bologna, in quanto da oggi in poi abbiamo il tempo per installarlo. Sarà comunque un palquet smontabile, quindi sarà utilizzato quando saranno i concerti, verrà tolto e quindi non verrà, si pensa, mai rovinato. Per quanto riguarda le restanti migliorie, abbiamo incontrato le scorse settimane l'azienda Sonego, che è l'azienda che a livello mondiale costruisce, non costruisce gli stadi, ma sistema le poltrone in tutti gli stadi e stiamo, assieme a loro, valutando le migliorie da portare già però nella prossima stagione al palazzetto dello sport per i nuovi tipi di seduta piuttosto che le nuove aree che verranno fatte. Prima di arrivare al tema Coppa Italia c'è un'altra frase che, diciamo così, mi sono sottolineato tra le cose che hai detto in conferenza stampa, cioè Trieste non deve avere paura se dovessimo andare in A1. No, Trieste non deve avere paura perché comunque questa società, questa proprietà, il sottoscritto, hanno fatto delle opportune valutazioni e se mai ci dovessimo trovare in questa, tra virgolette, situazione, l'affronteremo nelle dovute maniere e con le dovute capacità economiche. Quindi non vogliamo strafare, non vogliamo fare niente di più di quello che si riuscirà a fare, certo, però non vogliamo neanche rinunciare ad eventuali opportunità.